Golfo di Policastro, Salerno. Il Golfo Socialista rinnova i propri organismi dirigenziali in continuità con il lavoro della squadra di Pasquale Sorrentino, attuale consigliere provinciale PSI e vicesindaco di San Giovanni a Piro. Gianfrancesco Caputo, già segretario regionale Italia del Meridione, da ieri, 17 luglio è il nuovo coordinatore PSI del Golfo di Policastro. Strategia e organizzazione in vista di importanti sfide che ci attendono, riforme strutturali, questione meridionale e formazione della classe dirigente i punti del programma dei prossimi mesi ha dichiarato Silvano del Duca, segretario provinciale PSI. Gianfrancesco Caputo coordinerà una squadra di militanti e amministratori che in tutte le tornate elettorali esprimono un forte radicamento territoriale e numeri in crescita. Di tutta evidenza il dato alle scorse elezioni europee in cui si sono registrate percentuali importanti in tutti i comuni del Golfo di Policastro e la percentuale più alta d'Italia, 40% a San Giovanni a Piro.